Pacchettino, PartyBagger e TTK, Trailblazers 84+, io qua mi sento Swiffer 84, 3, 2, 1 e andiamo nel mio account, sium, ok? Spagna, PS, Gaia, il classico, vabbè, vabbè dai, inutile, sì, però simpatico, dai ce lo buttiamo lì, una cartina così per il meme, dai, ci può stare, poi capitano, terzino, sinistro, spagnolo, tutto tecnico, il nuovo Giordi Alba 5, 4, 3, meglio le ho a base, 2, 1 e andiamo con questo pacchettino, RTTK, Trailblazers 84+, qua, lo sapete, Prediction, Calulu, sto tutto Pier Calulu, sto tutto Pier Calulu, sì, partisse, sto tutto pure Mazzario Conference, Edin Dzeko, per 89, hai convertito una sfida 83 con 89, questo diventa pure 90, occhio dottù, occhio dottù, Edin Dzeko Sì, ragazzi, mi sono arrivati gli inviti, non vi preoccupate, andiamo con questo terzo pacchettino, RTTK, Trailblazers 84+, vediamo cosa ci regala questo grande videogioco Trail, Giappone, ah, Kubo, vabbè, sto tutto Takefusa Kubo, broderò, sto tutto Takefusa Kubo, ma buona sub, dai, una buona sub, ci posso stare, me l'accollo, dai, me l'accollo Me l'accollo, me l'accollo, sì, vabbè, ma ci può stare, c'ha pure il Magnete Plus, c'ha, sta tutto calamitato, sta Andiamo con questo, party bag, RTTK, Trail, 3, 2, 1 e vai col tango, questo lo dedichiamo a Mocha Wast Mocha Wast, che è per te, bro, dai, andiamo col party de Johnny, va Brasile, DC, Marquinhos Mi posso dire, buono pa' la Furseria, buono pa' la Furseria, non è male, gasa il capitano, capitano, frate, è gasato, eh, capitano, eh, però, forse era meglio Marchini, a naso, probabilmente Forse sì, forse era meglio Marchini, sì, forse, forse Vabbè, basta, 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 300 volte Zeko, vai, pacchettozzo, party bags, tutte cose Oddio, chi è, oh? Sto tutto De Paul Sto tutto, sto tutto Rodrigo, oh, bello Bello De Paulone, oh, bello De Paul Mo' dico, mo' vado a vedere il primo che ha detto De Paul, va Sto tutto, sto tutto De Paul, sto, oh E De Paul, Marco Sabri, fratello, ha detto lui Marco Sabri 12 Subito, si stucca un abbonamento, così romantico Andiamo 3, 2, 1, RTTK Trailblazer 84+, siumme, te Oddio, trail Mamma mia, questo è il peggiore Questo è quell'altro del Bahrain Quello, mamma mia Posso dire, l'unica cosa che gasa, frate, è esultanza Esultanza della casa, te sta a dire faccio un culo Nooo, nooo, scherziamo, eh Però, frate, penso esultata così Gaso, onesto Pacchetto, trailblazers, rotto di knockout 84+, qua me sento, ve lo dico Acugna, ha monominato prima Acugna Francia? DC? Au, ho tutto con te Questo è un campione proprio Amosculato, quanto costa, oh? Questo, frate, questo bene, 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 oh? Ma questo, proprio bene, bene, bene Qua me, proprio vittoria clamorosa, oh? Quanto costa? Oh, la madre, oh Quattro piotte Au, è qua stoncata importante Quattro e mezzo, oh? Signori, andiamo con questa RTTK Io qua mi sento, ve lo dico? Calulu Non so perché oggi sto tutto ubricato a Calulu Invece è un grandissimo Edin Dzeko 89 Peccato, peccato Poteva essere meglio Invece ci ha dato un bel Edin Dzeko Garantito, gasato Peccato, peccato, peccato Signori, RTTK, Trailblazer Sottantaquattro più Partybag Tre, due, uno E andiamo Europa League Oh Non c'è un... No No, no Vabbè, è andata così È andata così Ma succede Non è andata bene No, andiamo con questo Pacchettozzo Tutto rotto De knockout Qua mi sento Dodò So tutto Dodò No? È Trail Il grandissimo Incommensurabile Eclettico Devastante Teuma Capitan Teuma Capitan Teuma Di Malta O del Bahrain Non ho mai capito Lui forte, eh Lui forte proprio, eh Odo, tra del più forte di tutti Non ti puoi manco lamentare Andiamo con questa RTTK Trailblazers Ottantaquattro più Qua la prediction Va su A costa Trail 3, 2, 1 E andiamo con questo pack Dal drop Christian Maggio UCL Spa So tutto Pedro Frate So tutto Pedro 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 Oh, gran carta La serie A però, eh Gran carta Osimene Rotto di knockout Comodori Prova la gioca anche se non è forte Andiamo con questo Party Bag RTTK Pionieri 84 Più Vamos Argentina CC The Bull Frate Lo sai bro Lo sai Lo sai frate Ma è tanta roba Tutto È tanta 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 roba Ma un mostro È un mostro È un mostro Andiamo con questa RTTK Pionieri Trailblazers 84 plus So tutto English Sto tutto World Browse E andiamo No, è Swiffer Porco È Swiffer Tivo Roma Frax È Swiffer È Swiffer Eee Proprio lui Hai trovato Cissoko Com'è? Valido E andiamo con questo Party Bag Rotto di knockout Pionieri 84 Più 3 2 1 Vamos Andiamo a trovare questo Osimene dopo che abbiamo nominato Napoli Osimene Osimene No No Edin Sempre lui Il cigno Di Sarajevo Edin Dzeko Vamo Vamo Proprio lui Sempre lui Incredibile RTTK Pionieri 84 più Partyback Devastante 3-2-1 Andiamo va Andiamo con questo Dzeko No Trailblazers Inghilterra Bellingham Bellingham Portacci Sei altro che così Questa è la faccia di Bellingham Bellingham Così Così Un bel bistecone ci ha dato Altro che Bellingham Ficile Pai col 3-84 Più Il cane sta a dormire Così Vabbè Vabbè Manca a far così Nel senso Bella Raze Vabbè Se vabbè Comunque 60k Mezzo che tu puoi giocare O buti 3-5-2 esterno O metti mezzala Andiamo con quest'ennesimo RTTK Trailblazers 84 più Il partyback Del secolo Fammi vedere va UCL Francia AD Non ce credo Ma 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 In che senso Scusa Non ho capito Vabbè Manca a far così Però Dei che Dei che la verità Manca a tagliare più forte Però Manca Qua docca Faire tipo Per pari Manca due Qua docca Sperare che il pari Vinca la prossima Che passer turno Questo 91 Bene bene Non è che dovete iniziare A dire non ti devi svegliare Mi sembra eccessivo Dei che la verità Andiamo Con questo Partybag E vi dico qui Troviamo Non mi sbaglio Me lo sento Ok Calulu Un po' Dovremmo trovare Calulu Eh Sto tutto Ruben Dias Frate Buono 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 Di carità Quanto Quanto è 90 Se fa pure così Oh Questo Gordone Buono Buono Vabbè Gordone 84 Più Au Mica Au Eh Un po' Cross Sotto 386 Più Non è che mi è Tipo un Bappi No Ma pure Van Dyke Chi è Non è che mi dai Mbappi Ma mi ha dato davvero 3-2-1 Andiamo con questo pacchetto RTTK Trail 84 Più Che mi dai Trail Inghilterra CC Non ci credo più Non ci spero più Oh È rotto il cazzo È il terzo È il terzo Che mi dai È il terzo Che mi dai The world Braus Ma è il terzo Ma basta Ma basta Ma basta Ma basta Ma mi ha rotto il cazzo Basta 3-2-1 Andiamo Non un 84 Mi raccomando Ma vi pare che ci dà Teuma No Brasile Marchinhos Sandro Ti ho sculato Sandro Prego Eh prego No perché poi dici No Non mi trovi niente Il primo giocatore che ti ho trovato Buono Non puoi lamentarti Linka pure Mbappé pot Ma bro Lo sai Lo sai Lo sai Molto forte bro È molto forte Palma voi Palma Palma Trailblazers Golovine Mamma mia Che campione Eh frate Questo Mezzarkamp Mamma mia Che pippa Questo scandaloso Porco Due Porco Pollea Andiamo però Con questo Pacchettozzo E poi abbiamo pure un eroe Tanta Altamente Carry Pacchettozzo RTTK Pionieri 84 plus Trailblazers Scozia TS Roberson Dubiotte Costa Bono Roberson Benessere Assoluto Questa è Nascolata Perché in Premier Non c'è Niente Questo link A pure Vandai Che io ieri Mo volevo Comprà Figuratevi Questo è Bene Questo bene 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 Onesto